Con questa di oggi completeremo, lo vedrete fra poco, quando sarà scoperta, completeremo la bandiera italiana. Anche questo è un simbolo. Far capire ai nostri ragazzi, anche il punto è strategico. Sono state installate vicino due scuole che abbracciano tutti, tutto il percorso scolastico, dalle elementari fino ad arrivare alle superiori. E' un simbolo, ma sono simboli che servono innanzitutto per ricordare chi 30 anni fa domani ci ha rimesso la vita per difendere lo Stato, per combattere la mafia. E poi questo simbolo del tricolore per ridare fiducia ai nostri ragazzi, per farli credere nuovamente nello Stato, perché lo Stato c'è.